Vado a lavorare in pavimenti con i denti di tempo, ma è una nuova emozione. Oggi è ma che ho incontro di ore che ho adottato mentre con i denti. E non mi sapevo via perché non faccio. Oggi ho adottato mentre con i denti e non tolore. E io sono andato alle 10 centi ora, e hanno la parola, e mi sapevo che i denti ripeto. Vado! 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 Grazie per aver guardato il video.